È un argomento che spesso e malvolentieri torna alla ribalta nonostante appelli, proteste e telecamere. Succede a Morbegno, ma in passato ci siamo occupati di casi analoghi a Coseo Valtellino e Albosaggia, i furti di fiori e non solo, al cimitero, un malcostume che ciclicamente si ripresenta a Morbegno. Chi lavora al cimitero in queste settimane ha registrato molte lamentele da parte di chi cura la tomba dei propri cari. Purtroppo è un malcostume che c'è. Ci rendiamo proprio un po' conto che questo malcostume c'è sia qui a Morbegno che in altri cimiteri, in altri paesi. Spiace più che altro per il rispetto dei defunti, anche perché essenzialmente magari il fiore non è essenzialmente il prezzo che ti incide, ma è proprio il fatto del non rispetto nei confronti del defunto. Stiamo parlando del luogo del silenzio, del rispetto assoluto, del ricordo, della preghiera, invece così non è. Manca proprio il rispetto secondo me e la cosa che personalmente mi fa specie, che credo soprattutto in un cimitero, è proprio il fatto che non sono i giovani che frequentano un cimitero, ma la gente sull'età. E quando al senso civico latita si torna a parlare di telecamere. È un malcostume che si spera di riuscire a riporre rimedio, magari studiando un impianto di videosorveglianza sulla struttura, che ormai è diventata molto ampia, e quindi posizionando nei vari angoli delle telecamere sicuramente si potrebbe intervenire. Posizionare telecamere nei cimiteri e nei luoghi sacri dovrebbe essere l'ultima soluzione, ma evidentemente serve un deterrente come una videosorveglianza antifurti sulle tombe.